Diciamo che l'ultima criticità di questi giorni di mal tempo non ci ha subissato bene nelle volte scorse, anche se ci sono stati alcuni problemi importanti che hanno riguardato sempre la zona delle balze prima del centro abitato di Piantravigne, dove ci sono continui scivolamenti di materiale dalle balze e quindi siamo costantemente sul luogo per intervenire per la ripulgitura della carreggiata. Allo stesso modo abbiamo avuto le criticità sulla salita del tasso dove tra la notte del venerdì e la mattina del sabato della settimana scorsa abbiamo dovuto chiudere momentaneamente la strada per qualche ora per rimuovere tutto il materiale franoso che era scivolato sulla carreggiata. Attualmente sempre nella zona del tasso, però nella parte di fondo valle, quella del borro del tasso, abbiamo dovuto mettere un'ordinanza di rivieto per i mezzi di portata superiore ai 35 quintali perché ci sono dei restringimenti di carreggiata e vari punti di frana. Anche qui contiamo di intervenire celermente, subito dopo l'intervento del Poggio Erlande, contiamo di intervenire qui sulla strada con anche l'utilizzo dei fondi stanziati da parte della regione.